C'è una sola femmina, casuale no? Ovviamente non è casuale, rispecchia la società italiana che forse è un po' più avanti rispetto alla politica ma indubbiamente è ancora una società fortemente maschilista e macista e su questo ha fatto anche dei grandi passi indietro quindi non è casuale, chiunque conosca il mondo della politica sa che il soffitto di cristallo esiste e come sa che anche le donne purtroppo loro stesse questo specialmente a sinistra, infatti la Meloni è di destra specialmente a sinistra, ma ci sono anche degli studi che sono stati fatti negli anni scorsi a questo proposito, sono loro che fanno sempre un passo indietro e infatti è interessante notare come delle figure anche a livello europeo, internazionale, di donne leader spesso si trovano a destra, Marine Le Pen, appunto la Meloni oppure anche in altri ambiti Però bisogna dire una cosa, la Meloni è anche più brava di altre e quel che ha se l'è preso che è anche una strada che in politica purtroppo è molto crudele ma è così Sì, però su questo direi che ci sono invece un sacco di uomini politici che hanno un ruolo e che sono detto tali incapaci Quindi non si capisce perché le donne devono essere sempre così brave Più brave Abbiamo una delle più alte cariche dello Stato che è una donna